Un saluto amici della rete. Breve introduzione per dirvi che sto continuando a scoprire cose sulla Go 2 e in particolare mi sono un attimo flippato con l'app sul cellulare Android per editare i video e la prima impressione devo dirvi che l'ho trovata potentissima. Finalmente è una app con cui riesco ad editare semplicemente i filmati video presi dalla Go 2, modificarli e addirittura produrli. Mi permette di lavorare sui filmati non stando a casa, questo che vedete l'ho prodotto, l'ho realizzato, l'ho editato e l'ho prodotto mentre ero sul treno mentre andavo a lavoro a Pescara, quindi una semplicità estrema. Nei prossimi giorni vi farò un video sulle varie funzionalità dell'app, per ora rilascio al videoprodotto che è una breve uscita in mountain bike da controguerra alla Spaccaculi di Colle Bigliano sopra Villa Lempa, sempre qui in provincia di terra. Sigla e il filmato completamente editato dal mio cellulare. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!